Vedo che è una candidatura democratica, ampia, nel senso che ci sono tanti candidati. Io devo dire che la migliore risposta che si può dare al Movimento 5 Stelle non è quella di inseguirli nei loro modi o nei loro metodi o nelle candidature come quella di Di Maio, ma è quella di tornare la politica e i partiti ad essere credibili, cioè a rimettere in gioco proposte che testimonino come la politica, quella vera, è capace di rispondere ai problemi del Paese. In questi quattro anni e mezzo abbiamo cercato di farlo tutti insieme. Credo che più di tifoserie o di scontro da tifoserie serva invece che ogni partito, ogni proposta politica, ritorni alla serietà della propria proposta.